Da quando è uscito il video su come fare il patentino per i droni avete cominciato a scrivermi ovunque su Telegram in privata, su Telegram nel gruppo, sui messaggi di Instagram, nelle live di Instagram, nei commenti di YouTube, ovunque come faccio a passarlo? Non ce la faccio a passarlo, sono al quinto tentativo, sono al sesto tentativo mi tocca aspettare un mese, mi sono bocciato, mi tocca pagare, non riesco più a studiare, sono disperato, un sacco di cose quindi sono stato ben contento quando Dronext mi ha contattato perché almeno ho un qualcosa da darvi in mano purtroppo all'epoca di quando ho studiato io si trovavano le domande di esame disponibili in internet dopo Enac se ne è uscita con no sono illegali purtroppo il nostro sito dell'Enac dove si va a fare l'esame comunque ha tre problemi di fondo il primo sta nel come sono scritte le domande perché ho visto molta gente, di quelli che mi chiedevano aiuto lamentarsi proprio del fatto che non siano chiare ma come sono scritte in italiano o le hanno tradotte da qualcosa di europeo ma proprio con quel traduttore non sono chiare come sono scritte quindi questo è il primo problema di fondo secondo problema di fondo, il manuale per quanto sono 150 pagine non è completissimo cioè io ho fatto l'esame una sola volta e ovviamente le domande sono randomiche ogni volta quindi magari non me ne sono capitate di questo tipo ma ho visto più gente lamentarsi del fatto che ci siano certe domande di cui non appare la risposta nel manuale cioè tu puoi anche studiartelo tutto e non sono spiegate tutte quindi forse anche materiale integrativo come queste 400 domande di Dronext magari possono anche salvare il culo in quelle situazioni in cui ti fanno una domanda che Enac stessa non ha posto nelle spiegazioni del manuale il terzo problema per il quale non possiamo farci niente è che il sito crasha e anche qui tantissima gente che si lamenta che magari arriva in fondo all'esame e il sito crasha oppure inizia l'esame e ancora prima di iniziare il sito crasha e ve lo conta come tentativo fallito se siete abbastanza preparati diciamo che i sei tentativi che Enac vi dà non sono sei tentativi perché non sapete le risposte e quindi fallite l'esame ma sono sei tentativi che potete spendere in il sito crasha boh ci riprovo, crasha ancora, boh ci riprovo un'altra volta o prima o poi reggerà la baracca a fine e a fondo sono stato molto fortunato e la prima volta non è crashato il sito però purtroppo probabilmente soffre di questi problemi e quindi a parte il manuale di 150 pagine che però è un po' lacunoso su alcune cose non è precisissimo, insomma non è il posto migliore dove studiare manca un materiale che sia sussidiario alla preparazione all'esame dei droni e quindi mi hanno inizialmente contattato con questo bellissimo manuale di 400 domande di esame con risposte ovviamente non sono esattamente copie ancora quelle dell'esame perché sarebbe illegale però sono molto vicine, molto compatibili anche come metodo di scrittura insomma a posteriori, sapete che io l'esame l'ho già fatto, l'ho passato e ho il patentino a posteriori ho dato un'occhiata a questo materiale che hanno preparato ed è veramente completo ed è veramente molto molto simile a quello dell'esame rendendo di fatto molto più agevole la preparazione e quasi assicurato insomma il superamento della prova quindi in questo breve video che voglio tenere veramente corto per non tediarvi troppo perché so che lo guarderanno a molta gente che ha bisogno di un materiale per studiare per l'esame non di tantissime informazioni fuffa casissimo che non gli trasmettono niente però volevo giusto aggiungere un paio di specificazioni in più rispetto al precedente video intanto sì, il patentino possono farlo anche i minorenni dai 16 anni in su secondo no, per i Mavic Mini non serve il patentino serve la registrazione su D-Flight ma il patentino no perché siamo sotto i 250 grammi quindi vi confermo che il Mavic Mini è esente da patentino e quindi niente, questo video era principalmente una risposta alle migliaia di richieste di aiuto che mi sono piovute addosso dopo aver fatto il video del patentino qua ovviamente non posso mostrarvi direttamente il loro manuale di preparazione però anche se è tutto sfocato starete vedendo in trasparenza che sono due bei grossi file con tutte le domande sono 400 domande di preparazione con le risposte evidenziate le keyword in azzurrino questi due PDF tra l'altro ve li fanno scaricare da Google Drive in modo che voi ogni volta che andate su Google Drive potete trovarli sempre aggiornati perché li mandassero per email sarebbe un file solo invece su Google Drive vi danno la cartella dove c'è sempre il file aggiornato all'ultimo esame ENAC diciamo ovviamente è un manuale, un bel librone e anche è un servizio che costa non è sicuramente gratis ma sono una ventina di euro scarsi che possono fare la differenza nel passale esame e cose varie in più so che i ragazzi di Duronext dopo erogano anche tutta un'altra serie di servizi tra cui tipo i manuali aeronautici redatti per registrare i droni in maniera formale su di flight che tecnicamente sono obbligatorie alla registrazione del drone preparazione anche per gli esami per operazioni critiche per cose professionali e cose varie mi ha detto che hanno seguito più di 1400 piloti che proprio sono piloti di professione cioè fanno quello di lavoro per guadagnarsi da vivere insomma dallo zero ad essere pilota quindi insomma tutta anche questa documentazione fatta poi con anni di conoscenze di merito dei regolamenti che ovviamente poi cambiano nel corso del tempo un'altra cosa che mi avete chiesto quanto dura il patentino scade dopo 5 anni ma ha anche un senso pensate quante volte cambieranno le normative da qui al 2025 sono cambiate 5 volte solo nell'ultimo anno quindi ci sta che ogni 5 anni vada rinnovato il patentino però vi ricordo è una cosa tranne i Mavic Mini obbligatoria da avere e quindi non possiamo esimerci per questo breve video extra del lunedì è tutto spero di avervi dato la chiave per passare l'esame soprattutto a quei tantissimi che mi hanno scritto che avevano fatto 5 tentativi ed erano a sesto in descrizione ovviamente trovate tutti i link per il sito, i manuali, le cose varie per questo mini video è tutto ciao a tutti ciao a tutti